A gente la nostra cazia di una libertà, a gente che viene a noi, che è un po' di poterà, e non è vero, non è stato sarà di più, e questo è il potente che ha deppesì, e questo è il potente che ha deppesì. A gente la nostra cazia di una libertà, a gente che viene a noi, che è un po' di poterà, e questo è il potente che ha deppesì, e questo è il potente che ha deppesì, che è il potente che ha di più, che è il potente che ha di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.